24. Le ultime notizie Come disse Gianfranco Contini, Domodossola entra nella storia e dopo 75 anni è una pagina fondamentale per la nostra città. Una pagina fondamentale, abbiamo un calendario ricco di eventi come giusto che sia per celebrare un momento particolarmente significativo non solo per Domodossola ma per tutta l'Ossola, per tutto il nostro territorio provinciale ma direi addirittura per tutta l'Italia. Sono partite le celebrazioni per il 75esimo della Repubblica dell'Ossola, siete partiti ieri da Locarno, vero? Sì, ieri sera siamo stati a Locarno, una cosa meravigliosa, veramente un bel convegno. E oggi si prosegue con una presentazione l'Ibrania. Oggi abbiamo Re Alfonso che penso che il nostro ormai lo conosciamo visto che ha fatto diverse frequentazioni a Domodossola, dal premio Repubblica dell'Ossola ma anche prima con la presentazione di diversi volumi che lui ha dedicato a questa nostra terra. Grazie mille! Grazie.